Spazi ed edilizia universitaria, il ruolo della fiera? Ma io non parlerei del ruolo della fiera, ma parlerei del ruolo dell'università, che non deve essere solo il luogo di formazione, il luogo della conoscenza e del sapere, ma dobbiamo catturare, uso questo termine, catturare gli interessi dei giovani che devono guardare non solo al luogo di formazione, che oggi l'Ateneo è stato certificato come uno degli Atenei dal punto di vista formativo più qualificante dell'intero mezzogiorno, ma deve essere anche attrattivo per quanto riguarda la qualità della vita e per la qualità dei servizi. Allora è un luogo quasi naturale della fiera, a ridosso dei campi di Umedè, che stiamo qualificando con il più grande parco urbano archeologico, può essere un collegamento con il centro della città, perché questo parco arriva fino al pronato della villa comunale, quindi ci troviamo in pieno centro. Con una mobilità sostenibile penso che devono essere dei fattori urbanistici attrattivi, quindi migliorare il servizio, migliorare l'aspetto urbanistico, una location dove creare una cittadella universitaria, io penso che sia una fonte di sviluppo del territorio che non possiamo perdere.